eccoci con la nuova diretta di pilates network a corpo libero allora come comandiamo questa sera intanto io aspetto un pochino che le persone comincino a collegarsi vediamo se questa volta riusciamo anche ad andare in diretta su facebook senza grossi problemi mi potete scrivere sulla chat per delle domande intanto io scrivo ciao a tutti e benvenuti alla lezione pilates network serale questa è una lezione a corpo libero dicevo quindi avete bisogno solo del tappettino matt ciao daniela e se avete domande potete intanto magari scrivermele sulle chat o dubbi io stavo un ando sugli orari per fare queste dirette adesso sono in italia però è un momento particolare perché non sempre sono in italia e invece ovviamente quando quando ritornerò in california gli orari diventeranno un po più difficili da da combinare nel senso che c'è solo la possibilità serale per per l'italia e invece per me sarà sempre giorno ovviamente io sono sicura che ci sarà qualcun altro questa sera però essendo so che di corsa verso sera le persone finiscono di lavorare si devono sistemare quindi aspettiamo un pochino intanto daniela se mi vuoi dire se mi vuoi scrivere com'è andata la tua giornata oggi se lo diciamo un po tra noi io ho lavorato abbastanza anche davanti al computer quindi spero adesso di muovermi un pochino anche schiena però sono molto molto contenta di fare pilates adesso e vedo un altro paio di persone intanto stiamo aspettando che si colleghino le persone che ci vuole un pochino soprattutto in questo orario che si stacca magari se anche un po di corsa finita la giornata non so se avete visto l'altra lezione la daniela so che l'ha fatta in diretta quindi però magari anche le nuove persone se hanno visto la lezione se l'hanno fatta magari mi possono dire chi sono così così io capisco anche chi c'è dall'altra parte e chi farà pilates stasera tutto di corsa non vedo l'ora di fare pilates detto tutti non ci sono per nessuno ecco perfetto mi fa piacere daniela penso che sia l'unico modo per riuscire a prendersi degli spazi quello di proprio di mettere dei paletti altrimenti soprattutto qua in in Italia perché vivendo all'estero da molto sono abituata ad una vita sociale ben diversa e invece qui alla fine puoi sempre fare qualcosa puoi sempre trovarti poi adesso che sta anche tenendo un po più di bel tempo le giornate sono lunghe si sta bene fuori allora magari diventa anche difficile uno pensa no va bene vado fuori però in realtà se si vogliono vedere dei risultati l'unico modo è quello di fare una pratica consistente quindi almeno due tre volte alla settimana se si fa solo pilates altrimenti due volte alla settimana e poi qualcos'altro in fa settimana è già è già un buon insomma siamo a buon punto per per mantenerci quindi avete fatto una merenda in modo che siete idratati in modo tale da non svenire durante la lezione o comunque non avere cali di zucchero lo dico perché è importante ciao sabrina mi fa mi fa piacere ci sono state persone in attesa grazie per avermelo detto allora diamo intanto di togliere le persone che sono in attesa scusate ciao sono Mar com'è facciamo io oppure reformer allora intanto vediamo di risolvere questa cosa delle persone su youtube ah Daniela c'hai reformer a casa Daniela ok mi dicono che è risolto ho degli aiuti da casa perché altrimenti sarebbe un po' difficile un po' più complesso per me ehm Sabrina tu fai solo network o anche ai reformer? giusto per capire ehm ehm preso su QVC non lo conosco questo non conosco il sito è un sito QVC Daniela perché mh vivendo all'estero io conosco altri altri siti quindi ehm ehm stiamo parlando di reformer e di chi ha reformer a casa ecco giusto per chiarire questa è una lezione di Pilates Network e ok quindi non preoccupatevi se non avete reformer perché ci basta il tappettino ehm non servono neanche accessori ero un po' indecisa se fare con gli accessori o meno perché comunque qui eh non ho eh a parte la banda elastica eh non ho molti accessori e ehm e poi eh se devo essere sincera è anche bello poter fare eh una lezione eh senza accessori lavorare solo a corpo libero quindi ehm mi fa piacere Sabrina sapere che farai lezione e e anche eh che non hai la macchina a casa perché comunque per me è importante capire ehm poi stiamo ancora un po' chiacchierando vorrei un attimo capire magari chi c'è dall'altra parte se vi conosco già e se non vi conosco mi fa piacere che vi siete connessi quindi se avete domande in particolare magari potete scrivermi le adesso che riesco ancora a vedere che poi una volta che cominciamo la lezione e iniziamo a muovermi è difficile che riesco a rispondere e a buttare un occhio ehm a quello che che viene scritto stavamo un po' parlando degli orari so che questo eh è un orario che magari è ancora troppo presto ehm per per tante persone ehm quando si stacca da lavoro che magari si è un po' di corsa si fa fatica a connettersi ehm anche per me è difficile capire un orario perché abitando normalmente in America eh l'unico orario possibile è sempre stata la sera per fare le lezioni anche quando facevo le lezioni Instagram su Instagram live e adesso abbiamo fatto la prova domenica non so se avete avuto modo di fare la lezione di domenica in diretta oppure tramite link e e stasera proviamo eh come va eh con 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 l'orario se avete suggerimenti sull'orario potete anche eh farmelo sapere anzi ho bisogno di avere suggerimenti soprattutto per quando poi ritornerò in America perché così eh ho un'idea di quali sono un po' gli orari italiani ehm per fare attività fisica ehm mi è abbastanza chiaro che si facciano orari tardivi da sera ehm che è molto diverso da quello che invece si fa in 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 America ovvero che si fa sempre attività fisica alla mattina presto ehm io direi che eh è il momento per cominciare Daniela non conosco non non conosco il ehm il canale c'è la macchina il tipo il modello di reformer che mi hai scritto me lo andrò a vedere sicuramente perché così sono cioè cioè so qual è e ho provato tanti brand però questo eh questo mi manca e comunque ce ne sono tantissimi come ci cioè ci sono veramente tante tante tipologie di macchine bene bevete se avete l'acqua a disposizione perché fa molto caldo stasera quindi ehm se avete visto eh i miei consigli sulla l'alimentazione più o meno e l'idratazione avete capito quanto importante è e soprattutto anche prima di fare pilates spero che abbiate fatto uno spuntino e che non sentiate che avete una fame incredibile finché facciamo il chest lift o roll up bene direi che è ora di cominciare così riusciamo ad avere 40 45 minuti di lezione piena che sennò altrimenti ci perdiamo comincio a pancia in su con le braccia aperte a ti vedete di avere gli spazi e le gambe parallele quindi i piedi sono appoggiati a terra faccio un inspiro ed espirando lascio cadere le gambe a destra una posizione un po' diversa dal solito lascio pure che il femore vada in ruota internamente il femore sinistro ovviamente la parte destra è proiettata verso l'esterno inspiro ed espiro comincio a portare l'addome in dentro riporto le gambe al centro però continuo il movimento porto le gambe dall'altra parte lascio che le spalle siano pesanti sul tappetino un po per andare a mobilizzare la schiena soprattutto se siamo stati seduti tutto il giorno davanti al computer inspiro ed espirando attivo sempre l'addome anche la schiena lavora riporto le gambe al centro vado a portare le mani una verso l'altra incrocio e cerco di andare a toccare le mie scapole e poi riapro inspiro e quindi facciamo un bell'abbraccio e ancora inspiro apro ed espiro chiudo e inspiro se state respirando correttamente magari potreste anche sentire la vostra colonna ovvero delle vertebre che si aprono vado a portare le mani dietro la testa ci prepariamo per il chest lift inspiro ed espiro magari chiudo un po i gomiti lascio che le spalle abbiano il loro spazio vado su con la testa e le spalle guardo avanti e inspiro salgo un po di più espiro scendo ancora in e out butto fuori l'aria porto su cerco di mantenere il bacino neutro cosa vuol dire che la codina o il pube non va verso l'alto ma sta giù e ritorno c'è differenza soprattutto per la profondità degli addominali che andremo a lavorare ne facciamo altri tre quindi inspiro preparo e espiro porto sulla testa e le spalle inspiro salgo un po di più espiro scendo e ultimi due butto fuori l'aria inspiro ed espiro vedo di allungare un pochino di più la colonna mentre scendo ultimo inspiro e spiro salgo e in e scendo vado a chiudere le gambe questa volta mantengo le mani dietro la testa cerco di lasciare i gomiti cadere verso il pavimento oppure li sostengo dipende sempre dalla posizione delle spalle ancora vado nello spine twist quindi le gambe vanno verso destra inspiro e spiro ritorno al centro e vado verso sinistra in respiriamo apriamo bene quel pettorale ed espiro ed espiro ritorno e ancora destra in ed espiro centro e sinistra ed espiro ritorno porto la gamba destra in tabletop la gamba sinistra in tabletop gambe insieme cerco di avere i talloni in linea con le ginocchia inspiro ed espiro porto sulla testa le spalle di nuovo mantengo il neutro della colonna inspiro ed espiro scendo e ancora in e out se per me è troppo difficile avere le gambe in tabletop posso farlo di nuovo ripetere con i piedi a terra butto fuori tutta l'aria e scendo adesso andiamo ad aggiungere qualcosa quindi porto sulla testa le spalle porto le mani dietro le cosce e mi porto un po' più su cerco di stabilire un'altezza che posso mantenere riporto le mani dietro la testa scendo e ispiro e ispiro salgo mani dietro le gambe salgo un po' di più mani dietro la testa e ispiro ritorno ultimo così in e out e braccia salgo un po' di più spalle aperte i gomiti aperti mani dietro la testa e ritorno porto il piede sinistro a terra mentre la gamba destra scende porto sulla testa fletto il piede destro porto sulla gamba uno e poi scende rimango qualche centimetro da terra porto su due e scende piano piano continuo a guardare il mio piede se mi dà fastidio il collo porto giù la testa ultimi tre così dovreste cominciare a sentire l'addome che lavora due butto fuori l'aria e uno porto in dentro la gamba porto giù la testa e le spalle preparo inspiro porto su testa spalle distendo gamba sinistra mi raccomando le anche cerchiamo di averle parallele ancora la gamba a qualche centimetro da terra porto su uno e due butto fuori l'aria e tre attenzione a quelle anche e quattro stiamo su e cinque ultimissimo piego e ritorno andiamo ad allungare le braccia sopra la testa se riesco ad avere le braccia completamente giù bene magari il palmo rimane a guardare il soffitto altrimenti qualche centimetro da terra inspiro e spiro vado in pelvic tilt mi articolo la colonna nel pelvic curl stringo i glutei il primo vediamo sempre com'è e poi casomai aggiustiamo la posizione dei piedi riarticolo la colonna per tornare indietro passando poi dal neutro io vado a portare i talloni più vicini agli schi quindi controllo con le braccia inspiro e spiro pelvic tilt cerco di spostare il peso verso i talloni verso le gambe quindi stare abbastanza leggera sulle spalle inspiro e spiro e riarticolo pezzettino dopo pezzettino e ancora in e butto fuori l'aria inspiro profondamente e poi sgonfio dalla gola sterno zona toracica zona lombare bacino neutro ultimi due così i piedi sono rilassati a terra sempre sposto un pochino il peso verso i talloni andiamo di più in bacino retroverso inspiro e spiro e riarticolo continuo a guardare il soffitto ultimissimo in ed espiro cerco di trovare la bella linea diagonale tra le ginocchia e le mie spalle e ritorno pezzo dopo pezzo adesso porto su di nuovo la testa e le spalle le braccia scendono e poi ritorno rifacciamo, ripetiamo il movimento quando porto la gamba verso di me cerco di attivare il dietro del gluteo della gamba facciamo gli ultimi tre quindi facciamo attiviamo i muscoli ischio crurali in modo tale da non agire troppo sui flessori siamo qua scambio quindi leg exchange scambio scambio continuo a guardare avanti stiamo su spalle aperte mani in linea con le spalle ultimi ultimissimo abbiamo la gamba sinistra su piede destro giù e scendo con il corpo le braccia di nuovo salgo uno vediamo di lavorare bene con i muscoli obliqui qua importante l'allineamento del busto quando facciamo questi movimenti unilaterali ultimo stiamo qua vado a portare anche l'altra gamba in table top andiamo diretti con il double leg stretch distendo braccia e gambe porto in dentro uno allungo allungo mi estendo tre ultimi tre quattro cerco di avere i piedi in linea occhio un po' più su sto scendo con la testa e le spalle vado a portare la gamba sinistra giù la distendo bene e la gamba destra si distende verso l'alto e porto le braccia a T per questo leg circle quindi vado a flettere il piede destro sono il piede a martello e stacco l'anca da terra ritorno con l'anca a terra e poi vado dall'altra parte quindi porto la gamba a destra però l'anca sinistra rimane giù quindi centro stacco l'anca utilizzo gli addominali obliqui cerchiamo di allungare bene sentire il dietro della gamba ritorno a terra apro e invece l'anca non si muove facciamo un'altra volta questo stacco uso bene sempre la gamba a terra centro apro riporto al centro vado con il leg circle questa volta l'anca rimane giù e uno e due senso anti-orario tre quattro cinque ultimo sei sto vado dall'altra parte apro e uno e due e tre teniamo con l'addome quattro niente si muove nel busto cinque e sei sto punto il piede piego il ginocchio lo porto verso di me faccio un do una bella lungo scambio la gamba apro sempre le braccia le posso anche avere vicino al corpo però a me stasera piace mantenere l'apertura quindi andiamo a flettere il piede a martello controlliamo di essere in buon allineamento del corpo andiamo verso destra stacco quell'anca sinistra però mi raccomando teniamo la gamba lontana dal nostro corpo ritorno al centro apro dall'altra parte e io mi trovo col muro e porto e vado verso destra attraverso la gamba destra stacco l'anca lunghissima con la gamba ritorno al centro apro e centro e vado destra questo è l'ultimo così ritorno e apro apro porto al centro andiamo con i leg circle partendo in senso orario questa volta uno e due respiriamo tre quattro gamba destra forte cinque e sei sto vado dall'altra parte e uno e due minimizzate controllate il cerchio anche in base agli spazi che avete e sto piego il ginocchio lo porto verso di me bello stretch e è ora di fare degli altri addominali ci portiamo su con la testa alle spalle cerco di portarmi bene su e vado distendo la gamba a sinistra vado a premere con le mani sullo stinco e scambio in single leg stretch tre quattro cinque sei sette otto andiamo con il criss cross ruoto il busto e vado dalla parte uno due tre quattro cinque sei sette otto e ritorno mi porto su andiamo diretti con i rolli like a ball e vado inspiro e spiro e in cerco di curvare bene la schiena out spalle aperte gomiti aperti in e ritorno ultimi due così continuo a guardare il bacino sto ci portiamo di lato vado a distendermi con il corpo cerco di avere un pochino di spazio tra il mio corpo e il mat e vediamo di spostare quello che non serve mano in appoggio vado a spingere bene quel lato sul mat e porto sulle gambe uno e due cerchiamo di avere le gambe lunghe uguali tre spalla giù è aperta quattro cinque ultimissimo adesso facciamo gli ultimi due con il braccio su verso il soffitto per equilibrio quindi porto sulle gambe lunghissima e due ritorno vado in appoggio con la mano mi porto su andiamo direttamente con il mermaid ho le gambe una sopra l'altra distendo bene il braccio porto la mano giù e mi allungo ritorno busto dritto la mia box si raddrizza e mano a terra allungo sideband laterale ritorno e ne approfitto sempre per sentirmi lunga e ancora e ritorno e adesso andiamo nel nel side blank allora facciamo una prova magari potrebbe andare o magari no vediamo di avere una buona posizione della mano in linea con l'anca e la gamba sopra è leggermente spostata in avanti quindi ci portiamo su e già così se riesco ad arrivare è una buona posizione posso fare un arco con il corpo tipo arcobaleno ritornare da quell'arco stare in diagonale e e poi piano piano scendere come sta andando e tengo bene l'addome dall'addome immagino di venire tirata su dal bacino vado nel mio rainbow arcobaleno come preferite ritorno in diagonale e poi piano piano scendo attenzione che la spalla rimane sempre lontana dall'orecchio facciamo l'ultimo e preparo tutta quindi zippo interno coscia addominali e mi porto su ritorno cerco di essere lunghissima nella diagonale e poi scendo andiamo e rifacciamo tutto dall'altra parte quindi mi allungo mi distendo di lato cerco di essere in grado di vedere i miei piedi o comunque di avere più una posizione a banana che totalmente dritta il fianco vado ad appiccicarlo al pavimento mentre le gambe salgono e ritorno e allungo allungo e scendo spalla lontana dall'orecchio respiro facciamo gli ultimi due stringo bene con l'interno coscia e ultimo adesso abbiamo i due per l'equilibrio vediamo come va con il braccio verso l'alto oppure se no posso rifare sempre con la mano giù cerchiamo di non spostare l'anca rimane in linea con quella sotto mi aiuto con le braccia per portarmi su sono già nella mia posizione del mermaid prep e la mano scende side band laterale arco con il corpo e poi ritorno mi allungo e ancora mano scendo e ritorno e inspiro ne approfitto per frecciare il lato ed espiro l'ultimo andiamo con il side plank se il side plank dall'altra parte non sono riuscita a farlo posso continuare con il mermaid prep ovvero quello che abbiamo appena visto posiziono bene la mano che sarà un po' più lontana in modo tale che poi quando salgo la spalla è sopra il polso quindi gamba leggermente spostata in avanti e con il primo capirò subito se sono nella posizione giusta quindi salgo cerco di creare prima la diagonale come se qualcuno tirasse neanche cerco di creare l'arco ritorno nella diagonale sto stringendo l'interno coscia ritorno scendo sempre utilizzando bene l'addome e inspiro preparo salgo arco respiro do i tempi necessari al mio corpo ultimo e salgo su cerchiamo di non usare solo le gambe è ovvio che stanno lavorando però non dovrebbe essere tutto lì adesso ci portiamo in ginocchio e andiamo in una posizione un po' più di apertura per le anche quindi vado a portare la mano a terra distendo la gamba sinistra sono sul ginocchio destro se riesco in questa posizione porto bene il bacino in avanti non sono seduta indietro apro bene le spalle e porto la mano libera dietro la testa da qua attivo bene quell'addome porto sulla gamba sinistra cerco di portarla su tanto quanto inizio a sentire che il gluteo e la gamba sta lavorando portiamo su uno e due e tre e quattro cinque sei non molliamo ultimi due scendo con il piede la pianta è a terra mi porto su usando sempre il busto il torso e vado a controbilanciare allungandomi dall'altra parte adesso attenzione alla transizione andiamo con entrambe le mani sul tappettino porto la gamba all'interno e andrò a piegare i gomiti mentre la gamba che era distesa sale il piede va di nuovo a terra il piede sinistro stacco con il ginocchio destro distendo la gamba quindi un pochino di coordinazione qua scendo col ginocchio vado ad alzare la gamba sinistra piego in un push up ritorno su ancoro bene il piede sinistro e porto sulla gamba destra ripetiamo cerco di respirare tengo bene l'addome in dentro e su e faccio gli ultimi due e porto su attenzione alla transizione perché ci sono molte variabili cerchiamo di mantenere il corpo lungo vado a piegare tutte e due le ginocchia mi trovo in quadrupedia e facciamo il cut and cow stretch apro bene le spalle curvo la colonna butto fuori l'aria riarticolo la colonna vado in distensione della parte alta della schiena e curvo di nuovo addominali in dentro verso l'alto e riarticolo vado in estensione riarticolo la colonna e mi porto in ginocchio per lavorare dall'altra parte vediamo di avere gli spazi quindi distendo la gamba destra questa volta la pianta del piede giù e poi trovo la mano sinistra a terra mano libera dietro la testa porto sulla gamba tengo sempre forte l'addome portiamo su per dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno attenzione ora alla transizione anzi prima abbiamo uno stretching qua che è è il caldo e allungo 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 e ritorno giù faccio una pivò dal ginocchio senza farmi male distendo la gamba destra vado in push up e poi porto il piede destro giù porto sulla sinistra e scambio push up e ancora plank gamba opposta su piego cerchiamo di usare bene il precipito serrato distendo e piego e su ultimi due attenzione sempre teniamo l'addome e ultimo sto qua sono già pronta in plank tengo 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 vedo di distendere bene tutti i muscoli di sentirmi lunga vado a piegare leggermente le ginocchia e andiamo di nuovo con il push up piego e distendo piccolino il gomito sta all'interno cerco di usare il serrato bene anche e di portare il petto in avanti quindi il peso è realmente sulle mie braccia butto fuori l'aria apro bene le dita delle mani ultimi tre due e ultimo vado a sedermi indietro giusto cinque secondi mi streccio un pochino un respiro riarticolo la colonia e andiamo a piegare incrocio le gambe se la cosa è possibile per trovarmi di nuovo con seduta andiamo nel back support quindi faremo solo il prep quindi portiamo le mani di lato posso avere le dita di lato oppure verso di me questo dipende sempre dalla mia flessibilità e anche il fatto diciamo del bene delle articolazioni vado a inspirare preparo le spalle sono lontane dalle orecchie braccia forti prepariamoci e porto su il bacino guardiamo in avanti e ritorno che così non dobbiamo fare movimenti strani con il collo e ancora addome c'è un piccolo movimento di bacino retroverso per cominciare poi stringo un po' di più i glutei e porto su il busto e poi ritorno e facciamo l'ultimo così io provo anche con le dita rivolte verso di me e vado su e scendo stiamo qua andiamo indietro quindi i gomiti sono indietro e cerco di aprire quelle spalle aprire la clavicola però i gomiti vanno sempre indietro e poi distendo e ancora sto comunque tenendo addome gambe attive due tre facciamo gli ultimi tre così attenzione a non aprire i gomiti di lato importante che mi immagino che vadano su una linea dritta indietro sguardo in avanti cerchiamo di mobilizzare anche quei polsi ritorno scendo curvo la colonna apro bene le spalle porto le braccia su inspiro le braccia di nuovo sono in linea con le anche mi riporto su distendo le gambe e mi trovo nella posizione del roll up spalle aperte e scendo faccio l'imprinting della colonna stringiamo bene quelle gambe braccia salgono tanto quanto riesco in base agli spazi mi devo ancora abituare qui porto su e in e out mani sempre in linea con le spalle cerchiamo di aprire il fronte e mi sento le gambe ancorate a terra sguardo in avanti porto su 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 mantengo la curva c ultimi tre gambe che spingono in giù sono io che lavoro con il busto con l'articolazione con le addome e in ultimi due e sapete che roll up lo faccio quasi sempre e ritorno e ultimo stiamo qua non andiamo su totale sorpresina vado a portare la gamba destra su lunga 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 cerco di stare su e scende gamba sinistra su appiattisco bene la zona lombare deve stare giù gamba destra che schiaccia a terra questi non sono grandi movimenti ma sono importanti scambio gamba destra su e scende gamba sinistra e scende provo tutte e due provo 5 4 3 2 1 scende riporto giù la testa alle spalle e mi porto su roll up questo dovreste sentirlo stiamo qua andiamo ad aprire leggermente a separare le gambe mi sposto un pochettino che qua c'è il muro fletto i piedi e ruoto il busto vado verso la gamba ritorno su attenzione a questa mano e al centro inspiro ruoto a sinistra vado verso la caviglia porto su e ritorno e mi allungo e cerco di stare lunga butto fuori l'aria ritorno su ancora bene le gambe e centro e ruoto butto fuori l'aria e su e ritorno porto in avanti il busto le braccia restano aperte i palmi però vanno su quindi vado avanti tanto quanto riesco a tenere l'addome costole in dentro e facciamo dei piccoli cerchietti 1 2 3 4 come se avessi delle tazzine sopra le mani lavoriamo bene e vado dall'altra parte e ultimi 2 e adesso invece stringo indietro 1 2 3 cerco di stare avanti e il più possibile cerchiamo di di fare una challenge verso noi stessi ultimi 4 3 2 1 porto le braccia su allungo e apro e chiudo e apro se avate fosse finita con le braccia e 5 respiro 4 e 3 e 2 lunghissime 1 curvo il busto in avanti colonna spalle che si aprono riarticolo e chiudo le gambe e ci portiamo a pancia in giù allora testiamo un po' gli spazi perché faremo faremo un po' di movimenti quindi allunghiamo bene la colonna gambe leggermente separate mani in linea orecchie spalle vado su con la parte alta del corpo distendo le braccia le apro circonduzioni trovo le mie fianchi del corpo ripiego scendo ancora lunghissima parte alta della schiena lavora gambe pesanti ridistendo le braccia circonduzione apro piego scendo ancora in butto fuori l'aria out inspiro salgo un po' di più piego scendo ultimi due in output fuori allungo circonduzione inspiro attenzione al collo piego scendo e ultimo salgo allungo distendo circonduzione chiudo il mio corpo e piego e scendo portiamo le mani sotto la fronte vediamo di avere spazio dietro quindi io mi sposterò un pochino in avanti fronte che riposa sulle mani busto lungo gambe parallele distese andiamo a distendere e alzare le gambe non è che si ve mode molto perché ho avuto la capacità di trovare un outfit dello stesso colore del mat identico e vado a piegare le ginocchia fletto punto tutte e due cerchiamo di tenere il parallelo distendo e scendo rifacciamo porto su vado verso il gluteo fletto punto quindi due calcetti allungo scendo altri tre così vado su glutei bicipiti femorali fletto punto distendo mi raccomando ancoriamo anche pube e ultimi due allungo e scendo ultimo su e fletto punto distendo e ritorno adesso facciamo proprio gli ultimi per lavorare bene con i glutei in modo tale che non diciamo che non abbiamo fatto sufficiente gambe che sentivo un pochino di differenza qua tra le braccia e le gambe andiamo in rotazione esterna quindi andeor per le ballerine qua saranno contente anche sul mette osso pubico sul mette portiamo sulle gambe cerco di allungare il tratto lombare e addominali indentro facciamo dei cerchietti con le gambe sono sopra levata cerchietti piccolini 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 in sofferenza ultimi cinque quattro tre due uno andiamo dall'altra parte piccoli stringiamo come se dovessimo stringere una una nocciolina un bagigio e stringo stringo ultimi quattro tre lunghe quelle gambe due uno e adesso il clap 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 talloni indentro per dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno e su scendo mani sotto le spalle mi porto in chai pose con le ginocchia divaricate vedo di distendere bene le braccia allungo le dita delle mani cerco di spingere il bacino verso i miei talloni respiro anche sonoro non vergognatevi di fare respirazioni sonore che i nostri polmoni rispondono andiamo a strecciare un pochino i glutei e le gambe ci portiamo seduti gambe incrociate fa caldino se riesco a portare nella posizione di figure for da qua altrimenti vado giù sugli avambracci e cerco di portare la gamba il più possibile vicino a me ovviamente quindi più vicino è più riesco a strecciare respiro abdominali in dentro piede flesso che il ginocchio lo preferisce e poi magari scendo cambio le gambe e poi risalgo quindi piede flesso ginocchio aperto di lato cerchiamo di sentire il gluteo se non state sentendo c'è qualcosa di strano o comunque o siete estremamente flessibili vedo di stare sempre con le orecchie lontane dalle spalle o viceversa ritorno vado sugli avambracci per lo scambio mi riporto seduta andiamo ad allungare un pochino il tricipite quindi vedo se riesco almeno ad arrivare al centro della mia schiena con il tricipite indietro quindi e la testa lunga non cose strane quindi sguardo in avanti cerco almeno di avere la mano che arriva se riesco a stare così allora aggiungo l'altro braccio che di supporto respiro ritorno quindi preparo scambio le gambe ancora vedo di avere la mano che arriva a toccare il dietro della schiena con la testa dritta guardando avanti è così è fattibile allora aggiungo il braccio che dà un ulteriore push un po' una spinta respiro e e ritorno lavoriamo un pochino per cervicali porto giù il mento verso lo sterno chiudo gli occhi se ho bisogno senza forzare cerco di portare il naso verso la spalla destra e poi crea una mezzaluna passando dal centro di nuovo vado verso sinistra e ancora spostandomi verso il centro ancora lo sguardo basso ritorno con la testa al centro se voglio aprire gli occhi se li ho chiusi apro bene cerco di portare il cuore verso l'alto magari porto i palmi delle mani anche verso l'alto spalle scendono e cerco di guardare verso il soffitto lavorando però dalla parte alta della schiena non perché si tira il collo e vedo se riesco a respirare così bene allungando i muscoli dei flessori del collo la clavicola e ritorno al centro e per ultima vado in flessione del collo laterale se così mi piace posso utilizzare la mia mano destra per spingere l'orecchio destro verso la spalla destra e ritorno testa ritorno al centro flessione del collo verso sinistra se voglio utilizzare la mano per dare una piccola spinta sempre stando gentili dovremmo sentire anche i pettorali che si distendono non solo il muscolo che percorre il collo che si attacca alla spalla e ritorno al centro benissimo abbiamo completato la lezione ciao ciao cinzia mi ha fatto molto piacere che sei riuscita a seguire la lezione ciao marina il roll up è una tragedia per me come devo fare per riuscirci allora il roll up può essere un esercizio un po' difficile ti do un paio di modifiche te le faccio vedere se sei ancora lì marina se no altrimenti te le potrai riguardare in un secondo momento perché la lezione sarà comunque disponibile il modo più efficace è quello di utilizzare le braccia dietro le gambe e cominciare piuttosto a pensare di fare un roll down piuttosto del roll up e quindi di scendere che così andiamo a fortificare gli addominali in una misura sicura quindi già quando sono qui sto lavorando abbastanza e poi piano piano mi lascio portare a terra poi la testa per prima sale mi aiuto di nuovo con le braccia mi aiuto con tutto il corpo sedevo le prime volte in modo tale da creare quella curva c e poi con il tempo distendo le gambe adesso mi sono un po' appiccicata sul met e cerco la posizione finale diciamo dell'esercizio ancora una volta piego mi aiuto sempre con le braccia scendo piano piano e poi porto sulle braccia o le lascio di lato come preferisco braccia dietro le gambe cerco di usare le braccia però usare l'addome non la schiena e poi distendo le gambe questo è un primo passo per fare il roll up e grazie Cinzia sei molto sei molto carina anche perché insomma so che insegni anche tu quindi mi fa estremamente piacere e spero di aver dato una mano marina per praticare il roll up quando magari cominciamo a fare quella modifica un bel po' di volte e poi ci sentiamo sicuri allora poi possiamo passare a fare il roll up completo avete altre domande sulla lezione su alcuni esercizi perché abbiamo visto un paio di esercizi più avanzati ad esempio side plank che non è banale e sì anche io ero a carenza di spazio ne devo un po' abituare diciamo ancora per poco perché tra poco ritornerò ritornerò in California quindi mi faceva piacere riuscire a fare delle dirette da qua anche perché così eravamo sulla stessa sullo stesso time zone sullo stesso fuso orario quindi vediamo ciao Deborah vediamo anche voi potete anche saftica il nome è un po' particolare magari non è il nome completo quando faccio il rolling like a ball mi fa male la spina dorsale è il tappetino troppo sottile sì sì è il tappetino dovresti metterne due oppure dovresti avere il tappetino matte questi adesso non voglio fare pubblicità dove l'ho preso qua in Italia però come come si può vedere è bello spesso è necessario questo spessore quando si fa Pirates Network sarebbe preferibile è ovvio che poi se non ce l'abbiamo però allora non facciamo i rolling like a ball non facciamo l'open lag rocker o rollover perché rischiamo veramente di farci un po' male alla colonna soprattutto se siamo una tipologia che si vede proprio la colonna sulla schiena quindi è importante avere il tappetino giusto per fare Pilates questo però possiamo fare Pilates anche in esterno possiamo fare Pilates anche in spiaggia certo però allora faremo degli esercizi diversi staremo più supini faremo gli addominali classici non ci metteremo a fare le articolazioni della della colonna ho fatto Pilates anche in esterno sul sul patio quindi con le mattonelle c'è anche in in posti appunto dove dove si sente il pavimento ancora di più e quindi si fanno altri esercizi ecco questo sicuramente grazie Cinzia lo so che insegni sia Pilates e yoga ti ho ti ho vista anche ho visto qualche qualche tuo pezzo di lezione sì gli aggiornamenti sull'incendio in in California sono che l'incendio è stato contenuto più del 50% e l'evacuazione non è più obbligatoria quindi penso che le persone siano rientrate in casa io adesso ci sono dei periti che ovviamente vanno a vedere i danni delle case e soprattutto perché bisogna cambiare in California non esiste il riscaldamento con i termosifoni ma solo con le pompe di calore quindi è necessario che i filtri siano puliti quindi insomma queste sono le cose che le ultime le ultime news che sto di casa e oltre ai danni esterni però poteva andare molto peggio quindi sono siamo stati molto fortunati ad essere qua e che la casa alla fine è a posto ecco quindi allora grazie sto cercando di vedere chi siete magari qualcuna è più timida e non e non scrive però sappiate che mi ha fatto molto molto piacere fare le dirette con lo stesso orario italiano e ce ne saranno ce ne saranno delle altre quindi stay tuned sapete che potete ricevere anche gli aggiornamenti chi è iscritto alla piattaforma riceve già le newsletter e devo pianificare delle altre dirette appena avrò il calendario ovviamente sarete le prime a sapere le date e gli orari quindi come orari giusto faccio l'ultima domanda rispondetemi se riuscite come orari sette e mezza grazie Sabrina mi fa piacere che ti sia piaciuta la lezione va meglio sette e mezza otto cioè mi sembra di capire che vi allenate abbastanza tardi quindi che molte finiscono finiscono tardi per me è giusto capire per avere un'idea perfetto questo come orario bene sì io ho pensato sette e mezza che fosse un po' un compromesso tra non essere proprio alle otto di sera che comunque ci sono tante persone che cenano le otto e e neanche presto perché chi magari finisce di lavorare alle sei e mezza sette anche negli uffici forse si riesce ad arrivare si riesce a fare la lezione comunque abbiamo cominciato alle sette e quarantacinque più o meno quando ci sono state più persone connesse quindi adesso vediamo se su facebook è andato ok l'altra volta abbiamo perso un po' i primi minuti quindi speriamo adesso con questa nuova modalità di riuscire per me la mattina presto ok però pure la sera sì anche io preferisco la mattina Daniela però quando ritornerò in California sarà un po' fare lezione che sia mattina in Italia quindi sarà quasi sicuramente sempre la sera abbiamo fatto è stato bello per me insegnare la mattina ed è sicuramente la mia preferenza anche come orario per fare per fare Pilates però sono consapevole che l'ottanta per cento delle persone possono praticare alla sera ecco bene io vi mando un grosso saluto e sono stata felicissima che siete riuscite a collegarvi a prendervi questo spazio per voi ripeto se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi perché così avete gli aggiornamenti degli ultimi video soprattutto quelli più nuovi invece di vedere cose che magari ho fatto anche tre quattro anni fa e seguitemi sui social perché sono affidabili per quello che riguarda se ci sono eventi come ad esempio sono state queste dirette vi mando un bacione grande e ci vediamo alla prossima adesso vi scrivo ciao ciao